Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie sui mondiali, che dopo aver raccontato il primo dei mondiali, quello del 1930, e aver raccontato il mondiale italiano del 1934, va avanti di quattro anni per raccontare il mondiale di Francia 1938. È un mondiale importante, è l'ultimo mondiale prima della seconda guerra mondiale. Il calcio che ripartirà dopo la seconda guerra mondiale, come vedremo, sarà un calcio diverso, avrà una geografia diversa, anche da quali saranno le squadre più importanti del mondo, e cambierà anche perché passeranno 12 anni. È un campionato molto importante, soprattutto per l'Italia, che aveva vinto con moltissime polemiche, l'abbiamo raccontato, il mondiale del 1934, era stata accusata di aver vinto solo grazie agli aiuti arbitrali, nonostante avesse oggettivamente uno squadrone. Un'Italia che però aveva confermato il suo buono stato vincendo le Olimpiadi del 1936, con una squadra però diversa da quella che giocava e giochera ai mondiali, e che quindi si presentava in Francia nel 1938 per cercare di ottenere il miglior risultato possibile e in qualche modo confermare la verità di quella vittoria di quattro anni prima. È un mondiale importante perché il mondo in questi quattro anni è fortemente cambiato. Il mondo del 1934 non era sicuramente un mondo facile, i totalitarismi erano ormai già saliti al potere, ma quello del 1938 come vedremo è un mondo che si sta avviando verso la guerra e questi cambiamenti politici influiranno anche sullo stesso mondiale, costringendo addirittura una squadra a rinunciare alla partecipazione. Tutto questo cercando di semplificare un po' i tantissimi aneddoti su questo mondiale, l'ho scritto grazie all'aiuto di Matteo che come al solito mi manda tantissime informazioni sui mondiali che ringrazio, quindi come sempre se non siete già iscritti al canale fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e iniziamo a raccontare. Il primo in Uruguay, il secondo in Italia, il primo in Sud America, il secondo in Europa e fin qua ci siamo perché, come vi ho raccontato, sono ovviamente, e lo sono probabilmente ancora oggi, gli due continenti o parti di continente su cui il calcio è maggiormente diffuso. Tutti si aspettavano che i mondiali del 1938 per questa alternanza fossero nuovamente giocati nelle Americhe e in effetti fino al 1935 la federazione argentina aveva avanzato la possibilità, la proposta che si giocassero da lei. Dopotutto in qualche modo voleva vindicare la sconfitta in finale nei primi mondiali. A sorpresa però nel 1936 a spuntarla sull'Argentina sarà la Francia e questo creerà parecchio malcontento. Creerà parecchio malcontento in Argentina, tanto che l'Argentina non si presenterà neanche alle qualificazioni, poi tra poco ne parleremo, ma creerà in realtà scontento in gran parte delle ormai 51 federazioni che compongono la FIFA, anche perché essendo presidente della FIFA Giurrimè francese il sospetto era che fosse stato un piccolo regalo fatto alla sua federazione di origine. Ad ogni modo il mondo che accoglie questi mondiali, come vi dicevo prima, è un mondo molto diverso rispetto a quello di quattro anni prima. I totalitarismi esistono, ma la macchina che porterà la seconda guerra mondiale si è già messa in moto. La Germania ha rimilitarizzato la Renagna, si sta armando, ha occupato l'Austria, o meglio l'ha annessa a sé dopo un referendum francamente abbastanza posticcio, e tra pochi mesi inizierà a guardare verso est ai sudeti della Cecoslovacchia. Tra pochi mesi, a pochi mesi dal mondiale, si terrà quella conferenza di Monaco che per alcuni è l'inizio della fine per l'Europa, che porterà alla seconda guerra mondiale. I rapporti tra i vari stati si stanno raffreddando. L'Italia ha combattuto e con cui si è vinto la guerra d'Etiopia, questo l'ha portato ad un embargo da parte delle altre nazioni, e ovviamente ha fortemente raffreddato i rapporti che l'Italia fino a questo momento aveva mantenuto, anche con la Francia e con l'Inghilterra, e tutto questo si vivrà anche attraverso i mondiali, perché la nazionale italiana verrà accolta in Francia da contestazioni, polemiche, fischi, che arriveranno anche allo stadio, che non necessariamente la vedranno essere colpita da francesi, perché in Francia in questo periodo c'è una grossa comunità di espatriati italiani, antifascisti, che sono dovuti fuggire a causa delle persecuzioni del regime, e che non esiteranno a fischiare la nazionale, una cosa che oggi ci sembra quasi strana, ma all'epoca si pensava che la politica fosse più importante del calcio, ebbene non esiteranno a fischiare la nazionale che veniva vista come una diretta emanazione del regime. In effetti rispetto al 34 la nazionale è ancora più legata al regime, addirittura la nazionale nel 1936 giocherà tutte le Olimpiadi non utilizzando la classica maglia azzurra, con i colori di casa Savoia, ma utilizzando una maglia nera, voluta dal regime, che rimanda ovviamente alle camicie nere, e che in qualche modo legava la nazionale proprio al regime stesso. Quindi le cose si stanno facendo sempre più complicate. Ancora una volta, per decidere quali saranno le 16 squadre che potranno partecipare ai mondiali, che viene organizzato esattamente come il mondiale italiano, quindi con 8, con 16 squadre che si scontrano in una serie di scontri diretti fino alla finale. Vi metto qua lo schema, come potete vedere è assolutamente identico a quello del campionato italiano. Per decidere quali squadre potranno partecipare, esattamente come per il campionato del 34, vengono organizzate delle eliminatorie che si svolgono in varie parti del mondo. A queste eliminatorie si iscriveranno, perché poi parteciperanno molto meno, 37 squadre, quindi le squadre aumentano ancora rispetto a 4 anni prima. Ancora una volta le eliminatorie sono molto eurocentriche, perché delle 12 eliminatorie che vengono create, 9 sono composte da squadre europee, che peraltro avranno anche la maggior parte dei posti disponibili per partecipare. Nel dubbio, nei 9 gironi europei ci mettono anche il mandato di Palestina, il mandato britannico di Palestina e l'Egitto, così sono sicuri che non potranno partecipare e in effetti vengono eliminate tutte. Non ci sono grosse sorprese, tutte le squadre che ci si poteva aspettare al mondiale vi partecipano. Vi partecipano intanto la Francia e l'Italia, che però i gironi di qualificazione non lo fanno, perché il mondiale del 1938 è il primo in cui il paese ospitante e il paese vincitore del mondiale precedente partecipano d'ufficio e quindi noi e la Francia partecipiamo senza nessuna eliminatoria. Vi partecipano poi le squadre più importanti del continente, vince la Cecoslovacchia e anche essa parteciperà, vi ricordate era arrivata a seconda dei mondiali del 34, partecipa o meglio vince la sua eliminatoria l'Austria, che però all'ultimo non potrà partecipare. Perché? Perché, come vi ho raccontato prima, l'Austria era stata annessa nell'Anschluss alla Germania. La Germania ovviamente non poteva permettere che l'Austria potesse esprimere una propria nazionale di calcio, un po' perché la nazionale di calcio austriaca era molto più forte di quella tedesca. Pensate che era arrivata a seconda anche se era arrivata in semifinale nel 34, era arrivata a seconda alle Olimpiadi del 36, battagliava con l'Italia per il titolo di miglior nazionale dell'Europa, insomma la possibilità che arrivasse davanti alla Germania erano grandi, ma ovviamente in più c'era il problema. E l'abbiamo raccontato in una pidola apposita, quella su Mattia Sindel, la verrà li metto in descrizione, che diventasse un simbolo per chi lottava contro l'annessione. Per questo la Germania aveva tutti gli effetti costretto la federazione austriaca a sciogliersi e senza una federazione non si poteva partecipare ai mondiali, tanto che nonostante fossero 16 le squadre che avevano passato le eliminatorie, alla fine se ne presenteranno solo 15 e la Svezia passerà al suo primo ottavo senza doversi scontrare con nessuno. La Germania, dall'altra parte, cercherà di creare una nazionale unendo il meglio della Germania e il meglio dell'Austria. Molti austriaci del Wunder Team, come veniva chiamato, però non parteciperanno, a cominciare da Sindel e come vedremo i risultati della Germania non saranno fantastici. L'unica sorpresa delle eliminatorie europee è la Jugoslavia, che aveva dimostrato nei primi due mondiali di essere un'ottima squadra, ma che invece in questo mondiale non arriva neanche, viene eliminata dalla Polonia e devo dire che è stata una scelta fortunata, perché vedremo la Polonia farà una partita veramente meravigliosa negli ottavi. Gli altri gironi sono per il resto del mondo. Innanzitutto c'è il dodicesimo girone, che è il girone asiatico, anche se per qualche motivo, come vi ho detto, il mandato di Palestina è stato messo in quello europeo. Sembra un po' adesso che Israele è nell'UEFA. Il girone asiatico in realtà era fatto da due squadre, il Giappone e le Indie orientali olandesi, che grossomodo corrispondono all'attuale Indonesia. In realtà il Giappone non si presenta, forse perché è anche esso impegnato in guerra contro la Cina, e non si presenta allo spareggio con le Indie orientali. E così la prima squadra asiatica a partecipare a un mondiale sono le Indie orientali olandesi. Non sappiamo moltissimo di questa squadra. A malapena possiamo capire, perché le immagini sono in bianco e nero, che probabilmente giocavano con la stessa maglia dell'Olanda, quindi calzettoni bianchi, maglietta arancio. Nell'Indie orientali olandesi c'erano addirittura due federazioni distinte, una per i giocatori locali e una per i giocatori di origine olandese, che cercheranno di creare una squadra, che però ovviamente è fatta da non professionisti, che alla prima partita ne prenderà sei dall'Ungheria. Volente, sicuramente sono stati già abbastanza contenti di partecipare, ed è incredibile questo loro record. Tra l'altro la curiosità è che da allora l'Indonesia non ha mai più partecipato a un mondiale, né come Indie orientali olandesi, né come Indonesia autonoma. È mai più riuscita ad accedere a un mondiale, però rimane la prima squadra asiatica ad aver partecipato. Oltre all'Asia c'erano ovviamente anche le Americhe. In Sud America si presentano solo due squadre, non si presenta di nuovo l'Uruguay, non si presenta il Peru, non si presenta la Colombia, le uniche due squadre che si presentano sono l'Argentina e il Brasile, peraltro con il Brasile che era una delle favorite alla vittoria finale. In realtà l'Argentina all'ultimo decide, probabilmente in protesta, con la scelta della Francia come sede del Mondiale, di non partecipare a quella eliminatoria. E così il Brasile viene direttamente ammesso. Nel Nord America, Centro Nord America, invece si presentano sette squadre in asse di partenza. Sette! Sarebbe stato un record e si era organizzato un girone complicato per far scegliere quale dovesse andare, perché poi il posto era uno solo. Peccato che una squadra si ritira, due squadre si ritirano, tre squadre si ritirano. Alla fine nel giro di poco più di un mese, delle sette squadre se ne ritirano sei. E così l'unica squadra che si qualifica è Cuba, che va in Europa. In realtà a questo punto la FIFA non era tanto contenta della situazione, anche perché aveva perso due squadre che avevano partecipato ai mondiali precedenti, cioè l'USA, gli Stati Uniti e l'Argentina. E a queste due squadre verranno proposte delle altre eliminatorie. Agli Stati Uniti si proporrà di fare uno scontro diretto con le Indie orientali oolandesi per decidere chi dovesse andare a giocare in Francia. Gli Indie orientali ovviamente protestano, ma comunque gli Stati Uniti, per motivi economici, il loro campionato stava progressivamente scomparendo, decidono di declinare. Dall'altra parte all'Argentina addirittura prima propongono uno scontro con la vincente del Nord America, poi anche a loro uno scontro con le Indie orientali olandesi. Insomma cercano in tutti i modi di tirarla dentro, ma l'Argentina ancora una volta rinuncia e così con grossi rischi le Indie orientali e Cuba riescono ad arrivare ai mondiali. Finalmente dopo questa lunga fase eliminatoria si arrivò ai mondiali. 4-19 giugno del 1938 e questa volta a sorpresa, a differenza rispetto al 1934, i giornali italiani parlavano di Francia e di sport. Perché finalmente il calcio era diventato lo sport nazionale italiano? In realtà no, assolutamente no. Lo sport nazionale italiano diciamolo chiaramente continuava all'epoca a essere il ciclismo, ma parlavano di Francia e sport perché proprio in quel 1938, poche settimane prima del mondiale, Gino Bartali aveva vinto il Tour de France. Uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre aveva vinto il suo primo Tour de France e come dice Paolo Conte, famoso cantautore astigiano delle mie parti, ai francesi le balle ancora gli giravano. Citando testualmente la canzone. Pensate che Gino Bartali ne vincerà poi un altro dieci anni più tardi nel 1948. Dovremmo dedicare una pillola a Gino Bartali perché veramente è una storia incredibile. Ad ogni modo finalmente però era tutto pronto. Immaginatevi cosa volesse dire per chi viveva all'epoca in uno stato, in Francia, in Italia, dovunque, assisterà un mondiale. Innanzitutto voleva dire vedere arrivare delle squadre di cui poteva aver vagamente sentito parlare, ma che non aveva mai visto giocare. Le squadre che arriveranno soprattutto dal resto del mondo attiravano tantissima attenzione proprio perché chi le andava a vedere non è come oggi che conosciamo tutti i giocatori, giocano in vari campionati, quindi più o meno i giocatori più importanti li conosciamo, c'è YouTube, c'è la televisione. No, all'epoca si sapeva magari qualcosa di quella nazionale di cui magari si parlavano, si raccontavano meraviglie, ma non la si era mai visto giocare. L'esempio più lampante di questa storia era quella che era considerata la nazionale favorita per eccellenza per quei mondiali, cioè i Brasile. Ora, i Brasile nel 1938 era considerato uno squadrone incredibile. Innanzitutto perché aveva il giocatore che era considerato il miglior giocatore del mondo, che si chiamava Leonidas. Leonidas, che era detto la perla nera, che come vi dicevo è uno dei soprannomi di Eusebio e anche uno dei soprannomi di Pelè, come vi avete detto, era o l'uomo di gomma, era considerato un giocatore fenomenale. Era una punta, era capace di dribbling che all'epoca non sapeva fare nessuno, era molto fisico, veloce, aveva un tiro precisissimo ed era considerato il terrore di tutte le difese. Si raccontava che nel campionato brasiliano facesse valanghe di gol, in effetti era vero, e che avesse uno strapotere incredibile. In realtà quel Brasile non era solo Leonidas, che comunque come si vede dalle immagini dell'epoca era molto spesso il fulcro del gioco offensivo. Quel Brasile era un Brasile che giocava un calcio che in Europa non esisteva. In Europa si giocava un calcio molto fisico, fatto di corse, anche talvolta di lanci lunghi. Il Brasile giocava un calcio molto moderno, passaggi brevi, veloci, i giocatori che fanno correre la palla piuttosto che corrono loro, un calcio che in Europa non aveva visto praticamente nessuno e che metterà in crisi molte squadre europee. Il Brasile però non era solo Leonidas, era ad esempio Domingos de Cuia, che era considerato un difensore fenomenale, fisico, grosso, un uomo che doveva mettere le pezze al fatto che tutto il resto della squadra fosse offensiva, fosse offensiva a cominciare ad esempio dal centrocampo, dove giocava Zezé Procopio, da cui passavano praticamente tutti i palloni diretti a Leonidas o a un attacco che oltre appunto a Leonidas aveva dei nomi che sembravano venire fuori dalla mitologia, come Hercules. Immaginatevi una squadra del genere che cosa poteva fare alla sua prima partita contro la Polonia, polacchi che ripeto erano arrivati in maniera molto fortunosa a quel mondiale. Poteva fare tutto. E in effetti i brasiliani nei primi minuti del loro ottavo di finale contro la Polonia fecero il diavolo a quattro. Un gol, due gol, tre gol. A vedere le immagini sembra di vedere dei calciatori che giocano contro dei dilettanti, i polacchi che cercano in tutti i modi anche fisicamente di fermare i brasiliani e i brasiliani che gli ridono e riescono a fare tre gol. E poi sì, i polacchi fanno il 3-1, ma d'altronde insomma un tiro fortunato può riuscire a tutti. La partita però non era ancora finita, perché i polacchi una loro arma segreta ce l'avevano e quell'arma segreta, ovviamente sconosciuta a tutti, si chiamava Ernest Wilimoski. Ernest Wilimoski era il classico attaccante polacco, come Lewandowski, grosso, potente, veloce, uno di quelli che nella vita faceva gol e basta, non si preoccupava di nient'altro. Era un tedesco di origine, era della Slesia, un territorio che era stato annesso all'Olanda dopo la Prima Guerra Mondiale, lui aveva anche il doppio passaporto, difatti nella Seconda Guerra Mondiale tornerà ad essere tedesco, diventerà un poliziotto durante la Seconda Guerra Mondiale e riuscirà a salvare, pensate, la madre da Auschwitz. Wilimoski interverrà in quella partita come un tornado. Fino a quel momento i brasiliani avevano fatto quello che volevano, ma quando iniziò a prendere lui la palla, le cose cambiarono. 3-2, 3-3. La Polonia che fino a quel momento sembrava non riuscire a fare nulla, era riuscita a pareggiare con i brasiliani. I brasiliani però non ci stanno e prima della fine della partita fanno 4-3, ma ancora Wilimoski pareggia 4-4. Si va ai supplementari. Ai supplementari sale in cattedra Leonidas e di gol ne farà due, portando la partita su 6-4. Ma dato che i polacchi non mollano mai, Wilimoski fa anche il quinto e si va su 6-5. La partita finirà qua. Una partita considerata una delle più belle di tutti i mondiali. E ripeto, le immagini si trovano su internet e meritano veramente per quanto moderno sia quel tipo di calcio. Il Brasile va avanti. Wilimoski torna in patria con il titolo di essere stato il primo a segnare a 4 gol in una sola partita ai mondiali. Forse quello non gli darà molta fortuna, ma come vi dicevo una vita fortunata l'avrà. Peraltro una volta finita la seconda guerra mondiale sarà allontanato dalla Polonia in cui lui voleva tornare e costretto a vivere in Germania. Ma avrà una carriera lunghissima. Pensate che nei mondiali del 54 addirittura si parlò di convocarlo. Ma dato che il governo comunista dell'epoca impediva il suo rientro, ovviamente non si poteva fare. Un altro ottavo di finale molto interessante e da molti atteso era quello tra Germania e Svizzera. Sulla carta non c'era storia. La Germania, come vi dicevo prima, aveva messo insieme una squadra comunque decente come quella tedesca, in cui c'era formalmente un campionato non professionistico, ma in cui i migliori giocatori venivano pagati dallo Stato, quindi di non professionistico non c'era niente, insieme a una delle migliori squadre europee, cioè il Wunder Team. In realtà, come si vede dalla partita, queste due componenti giocano praticamente ognuna per conto suo, con gli austriaci che giocano in un modo e i tedeschi che giocano in un altro. Dall'altra parte c'era la Svizzera. Svizzera che doveva essere un po' la vittima a sacrificare, tutti lo immaginavano, ma che in realtà qualche giocatore buono ce l'aveva. Aveva ad esempio Minelli, che era un difensore, il cognome era chiaramente di origine italiana, che addirittura si diceva che Vittorio Pozzo avesse provato a convincere a venire in Italia a giocare e poi a entrare nella nazionale, senza riuscirci. E aveva anche un attaccante che si chiamava Ableggen, piccolino, veloce, forte colpitore di testa, che era detto Trello. Avrà una vita abbastanza sfortunata, morirà a 35 anni sotto un treno. Ma questi due giocatori guideranno la Svizzera in un deciso ribaltamento di fronte. La prima partita, perché se ne giocheranno due, terminerà 1-1. I tedeschi passeranno in vantaggio, faranno la partita per quasi tutto il primo tempo, ma a sorpresa gli Svizzeri riusciranno a pareggiare e da questo pareggio troveranno la forza per arrivare fino alla fine. La seconda partita inizia allo stesso modo. I tedeschi passano, raddoppiano dopo pochi minuti, in pochi minuti, una ventina di minuti, sono avanti di due gol e sembra che la partita sia finita, ma a questo punto è Ableggen a caricarsi i suoi sulle spalle. La Svizzera farà 4 gol alla Germania, vincerà 4-2 e quei giocatori che ad ogni inizio partita salutavano, anche la panchina, chiunque con il braccio teso, che dovevano essere l'immagine del nuovo Reich, torneranno a casa. E forse con loro finisce anche l'epica del Boomer Team. Ma di questo, ripeto, vi rimando alla pinola su Sindelar, che racconta qualcosina in più. E l'Italia? Eh, dell'Italia fino adesso abbiamo parlato poco. L'Italia negli ottavi gioca probabilmente quella che è la sua partita più difficile di tutti i mondiali, anche se sulla carta doveva essere una passeggiata contro la Norvegia, che saranno si alti, saranno si belli forti, saranno giocatori che corrono veloce, ma che tutti si aspettavano che di calcio non ne sapessero moltissimo. E invece, e invece, sarà una cosa decisamente diversa. L'Italia all'epoca era figlia, come quella del 1934, del suo campionato. E finita l'epopea del quinquennio d'oro della Juventus, che dopo i mondiali del 1934 ha ancora vinto un campionato e poi ha dovuto cedere i suoi giocatori migliori e ha chiuso il suo ciclo. Le due squadre che in questi anni si contendono gli onori delle cronache sono l'Inter nazionale, l'Inter, o meglio l'Ambrosiana, come veniva chiamato all'epoca sotto regime fascista, che ha vinto peraltro l'ultimo scudetto, ha comprato anche alcuni dei migliori giocatori della Juve, come vedremo, e soprattutto il Bologna. Il Bologna che, come si diceva all'epoca, tremare il mondo fa, perché non solo ha vinto i due scudetti precedenti, non solo vincerà il prossimo scudetto del 1938-1939, ma è riuscito a vincere anche la prima Coppa internazionale della storia italiana, l'antenata della Coppa Campioni, che è riuscito a vincere addirittura battendo il Chelsea, quindi una squadra inglese, squadre inglese che all'epoca erano considerate essere assolutamente imbattibili e che invece vennero vinte dal Bologna, che come si scrisse all'epoca, tremare il mondo faceva. Quel Bologna aveva un allenatore micologico, un gherese, Arpad Vaj, che però era ebreo e che non terminerà il campionato successivo, perché per le leggi razziali sarà allontanato e morirà in un campo di concentramento nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Anche di quello vi metto in descrizione il link alla pidola che abbiamo già fatto. Ad ogni modo, la nostra nazionale era principalmente figlia di queste due squadre, soprattutto dell'Inter, di cui praticamente assorbiva tutto l'impianto offensivo. L'unica grossa differenza stava in difesa. In difesa giocava a tutti gli effetti blocco difensivo della Juve, che se ci pensiamo è un po' un normalità quando vinciamo i mondiali. In particolare i due difensori Foni e Rava, che erano ufficialmente due terzini, all'epoca giocavano molto più verso il centro, i terzini erano molto più difensivi e che erano considerati due ottimi terzini. In particolare Rava era considerato essere il miglior terzino al mondo dell'epoca. Proteggevano la porta, la porta che sulla carta avrebbe dovuto essere difesa da Carlo Ceresoli dell'Inter. Non so se vi ricordate, Ceresoli era stato il portiere che avrebbe già dovuto difendere la porta italiana nel 34, ma che si era poi rotto un braccio ed era stato sostituito da combi. Anche questa volta Ceresoli ha un piccolo infortunio prima della prima partita. Il risultato è che sarà sostituito dal portiere della Lucchese Aldo Olivieri, un uomo abbastanza giovane, un ragazzo, che appena quattro anni prima in un intervento di gioco si era fratturato il cranio e a cui avevano detto che non avrebbe mai più potuto giocare a calcio. Invece lui era ripartito dalla Serie B con la Lucchese, aveva partecipato a portarla in Serie A e dopo quattro anni giocava in Mondiale. La vita ogni tanto è così. In effetti Olivieri farà un partitone. L'Italia passerà in vantaggio, i norvegesi pareggeranno subito e questo, insieme a uno stadio che fischiava ininterrottamente, manderà l'Italia in confusione. Probabilmente l'Italia giocherà la sua peggiore partita di tutto in Mondiale. I norvegesi per tutto secondo tempo attaccarono a testa bassa e ci dovrà pensare Olivieri, Foni e Rava dovranno pensarci per tenere lontani i palloni dalla porta. Alla fine l'Italia però verrà fuori con la sua classe e nei tempi supplementari, anche loro arriveranno i supplementari, riusciranno a vincere 2-1 grazie a un gol di Piola. Questa vittoria permetterà all'Italia di andare avanti e di passare ai quarti dove gli aspettavano i padroni di casa della Francia. Ed è oggettivamente Italia-Francia la partita più interessante dei quarti di finale. Innanzitutto, ancora una volta allo stadio, tutti aspettavano l'Italia, che peraltro per accendere ulteriormente le polemiche si presentò a essere l'unica partita dei Mondiali in cui lo farà proprio con la maglia nera. La maglia che tutti gli antifascisti espatriati in Francia ovviamente non potevano vedere. Ai fischi dello stadio gli italiani risposero con il saluto romano, che quando i fischi crebbero ancora venne rifatto per una seconda volta per ordine di pozzo. Dall'altra parte, la Francia era una squadra sicuramente trainata dall'entusiasmo di giocare un Mondiale in casa, aveva vinto 3-1 la prima partita, annientando del gioco il Belgio, ma in realtà non era una squadra di grossi campioni. Probabilmente l'unico vero campione che avevano era in difesa, si chiamava Mattler, era un difensore, e pensate che da bambino avrebbe voluto fare ciclista, ma dato che uno dei suoi tanti fratelli era morto andando in bici, i genitori avevano deciso di togliergli la bicicletta. Così si era messo a giocare a calcio ed era diventato capitano della nazionale francese. Come vi dicevi i francesi però, in questa partita la palla la videro poco. Gli italiani passarono in vantaggio, i francesi pareggiarono, ma poi gli italiani molto rapidamente fecero altri due gol, vinsero la partita 3-1 assolutamente dominandola. E riuscirono a dominarla soprattutto grazie al loro attacco, che è probabilmente uno dei più forti attacchi che l'Italia abbia mai avuto. Nel mondiale del 34 erano rimasti due giocatori, i due giocatori che giocavano dietro le punte che erano Peppino Meazza, giocatore dell'Inter, e Ferrari, se ve lo ricordate, giocatore che all'epoca faceva parte della Juve, ma che intanto era passato all'Inter e giocava proprio con Meazza in quella squadra. Erano due giocatori fenomenali, Meazza era probabilmente uno dei più grandi giocatori italiani di ogni tempo. Questa volta però non erano loro le stelle delle squadre, perché in realtà loro più che altro procuravano i palloni per il vero bomber dell'Italia, che si chiamava Silvio Piola. Silvio Piola è un mito per tutti. 34 partite giocate in nazionale, 30 gol segnati. È l'uomo che ha segnato più gol in Serie A, tanto per dirne una, ed è anche insieme ad Omar Sivori l'unico ad aver segnato 6 gol in una sola partita in Serie A, con la differenza che Omar Sivori gli ha segnati contro la primavera dell'Inter in una partita molto particolare, mentre Piola gli ha segnati in una partita normalissima. È uno di quei giocatori che, come si dice, ogni pallone che gli arriva è gol. Che fosse in velocità, che fosse di potenza, che fosse di testa, Piola sembrava riuscire a trasformare qualunque tiro in gol. All'epoca giocava nella Lazio, ed era, nonostante non raccogliesse molti risultati, perché la sua squadra non era forte, tutti lo riconoscevano come il più grande goleador del campionato. E poi, come sapete, c'erano le ali, che erano molto importanti nel metodo, abbiamo parlato nel 34. Tra queste vorrei citarvi un giocatore della Triestina, che si chiamava Gino Colaussi. Si diceva di lui che non fosse tecnico, che non avesse un gran tocco di palla, che non avesse un gran tiro, ma aveva una qualità che ad altri mancava. Due polmoni giganti. Era un uomo che correva avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, per tutta quella fascia, si accentrava, passava palloni, ed era veramente un motorino. Veniva da Trieste, giocava nella Triestina, e come vedete era frutto di un calcio fatto di anche tante piccole squadre, dove a volte si continuava a giocare nella squadra della zona dove si era nato, e che andavano poi a comporre la nazionale. L'altro quarto che tutti aspettano è Brasile-Cecoslovacchia. Del Brasile abbiamo già parlato. La Cecoslovacchia ha vinto 3-0 con l'Olanda, ed era un'altra delle nazionali molto attese, anche perché era arrivata seconda ai mondiali di quattro anni prima. In realtà di quella squadra è rimasto poco. È rimasto il portiere Planica, che nonostante i tre gol fatti all'Olanda, ha avuto molto da lavorare, e secondo alcuni è stato lui a salvare la squadra dall'essere sconfitta. Lo sconto tra brasiliani e cecoslovacchi sembra fin dall'inizio impari. Ancora una volta i brasiliani fanno il loro gioco, ancora una volta sembrano poter dominare la partita. I cecoslovacchi però a questo punto decidono che se dal punto di vista tecnico non ce la fanno, la possono buttare sul piano fisico, e così la partita sarà ricordata come una delle più violente di tutti i mondiali. Iniziano a picchiarsi, iniziano le risse, iniziano a rincorsi per il campo, a farsi fallo, e l'arbitro è costretto a sollevare un cartellino giallo dopo l'altro, alla fine spellendo addirittura due da una parte e uno dall'altra. Questa partita durissima finirà uno a uno, con, ripeto, ammoniti e espulsi da entrambe le parti. Sarà rigiocata due giorni dopo, e a sorpresa questa volta sarà una partita assolutamente correttissima, che i brasiliani vinceranno due a uno, passando così alle semifinali. Contro chi? Contro di noi. La Svizzera, che aveva battuto la Germania, sarà battuta a sua volta dall'Ungheria, che passerà in semifinale, dove andrà ad incontrare la Svezia, che alla prima giornata non aveva giocato perché l'Austria, come vi ho detto, non si era presentata, che a sua volta batterà, pensate, 8-0 Cuba. Cuba era arrivata senza nessuna pretesa, eh, assolutamente in questo mondiale, ma a sorpresa gli Ottavi era riuscita ad eliminare la Romania, prima pareggiando la prima partita, 3-3, e poi vincendo la seconda. Una piccola soddisfazione per uno Stato che ai mondiali di soddisfazioni non se ne toglierà praticamente più. Delle due semifinali che ne vengono fuori, l'ultima, quella tra Ungheria e Svezia, è quella sicuramente meno interessante. Gli ungheresi giocano un gran calcio, passano in vantaggio, gli svedesi pareggiano con un contropiede improvviso, più un errore della difesa ungherese che altro, ma poi gli ungheresi fanno quello che vogliono, la partita finirà 5-1, e ripeto, di storia non ce ne sarà. La partita più interessante è l'altra, Brasile-Italia, ovviamente i francesi tifavano per i brasiliani, che si pensava che a questo punto avrebbero potuto fare a pezzi gli italiani senza problemi. I brasiliani però avevano un problema, un problema ce l'avevano, avevano giocato quelle due partite con la Cecoslovacchia, erano state lunghe, erano state dure dal punto di vista fisico, e questo aveva provato soprattutto la loro stella, Leonidas, che già era uscito un po' malconcio dalla prima partita, ma nelle due successive era stato praticamente fatto a pezzi. Ora, c'è una leggenda metropolitana che dice che l'allenatore brasiliano decise di non far giocare Leonidas perché sicuro della vittoria e volesse preservarlo per la finale. In realtà, molto probabilmente non è così, Leonidas semplicemente non era in grado di giocare. Teoricamente, Brasile, una riserva di Leonidas ce l'aveva, che si chiamava Niginho, che era un giocatore, un oriundo, era mezzo italiano, mezzo brasiliano, aveva già giocato in Italia, ed era poi fuggito dall'Italia nel 1935 perché temeva di essere richiamato a combattere in Etiopia. Era tornato in Brasile e si era messo a giocare in Brasile. Il Brasile, però, non lo schiererà questo giocatore perché temeva che in qualche modo l'Italia potesse protestare. Anzi, l'Italia aveva già messo avanti di protestare dicendo chiaramente che se Niginho fosse sceso in campo avrebbe chiesto che la partita fosse invalidata perché riteneva quel giocatore, fuggito dall'Italia, un ricercato e che quindi non potesse giocare. Il Brasile quindi scenderà in campo praticamente senza un attaccante titolare e gli effetti si vedranno. L'Italia, che giocherà probabilmente una delle migliori partite del suo mondiale, riuscirà a tenerla in pugno dall'inizio alla fine. Farà due gol, il primo di Kolaussi, il secondo di Meazza, che lo segnerà su rigore. E anche qua c'è una piccola storia perché si racconta che Meazza, quando iniziò la sua corsa per calciare il rigore, improvvisamente avesse sentito uno stack dei pantaloncini e avrebbe calciato il rigore letteralmente tenendosi i pantaloncini, ma in questo modo rallentando quel tanto che bastava per mandare in confusione il portiere avversario che si sarebbe buttato lasciando segnare il rigore. Anche questa è una leggenda, c'è il video su internet, andatelo a vedere, la corsa non è minimamente arrestata, non si tiene i pantaloncini, ma è anche questa una bellissima leggenda che ha circolato per tanto tempo. I brasiliani faranno il 2-1 praticamente allo scadere, ma non servirà più a niente. In finale ci andranno gli italiani. Peraltro i brasiliani, che erano sicuri comunque della finale, avevano già acquistato il biglietto aereo per andare da Marsiglia fino a Parigi, dove si sarebbe giocata la finale, ma decisero di non cedere quei biglietti, come qualcuno aveva chiesto di fare per cavalleria, agli italiani, che saranno costretti a spostarsi a Parigi in treno. Ma intanto a Parigi ci andranno loro e i brasiliani dovranno giocarsi la finalina. In questa partita, per controllare il centrocampo brasiliano, si mise molto in mostra l'unico oriundo che l'Italia aveva tra i titolari. Ricordate, nel 1934 l'Italia era fatta per metà dei oriundi, cioè da giocatori che avevano un'origine non italiana. In questo caso invece l'unico vero oriundo si chiamava Michele Andreolo. Era uruguaggio, proveniva dall'Uruguay e giocava nel Bologna. La sua è una storia molto particolare. Era il classico mediano, quello che intercetta tutti i palloni e blocca l'azione prima che arrivi alla difesa. Era, lo vedete anche dalle immagini, bel robusto, era detto è il cibo e giocava in Uruguay dove era considerato un ottimo centrocampista. In Bologna, un giocatore uruguaggio ce l'aveva già e questo giocatore a metà degli anni 30 aveva pensato bene di fuggire da Bologna per tornare in patria perché il padre stava morendo. Il Bologna aveva mandato un proprio rappresentante a recuperarlo e quando questo era arrivato là aveva sentito parlare di Andreoli e aveva deciso di tornare indietro con due giocatori. E così era iniziata l'avventura di Andreoli in Italia e aveva portato, come si dice, un po' di garra ciarrua, un po' di garra uruguaggia nel centrocampo dell'Italia, che con il Brasile ne ebbe un gran bisogno. La partita per il terzo posto si giocherà a Bordeaux. I brasiliani, probabilmente ancora non proprio ripresi dall'Italia, andranno sotto i due gol con la Svezia. Ma poi usciranno fuori, Leonidas, che era tornato a giocare, tornerà a spiegare al mondo come si giocava a calcio. I brasiliani ne faranno quattro e chiuderanno la partita 4-2 arrivando così al terzo posto, che fino a quel momento era il loro miglior risultato ad un mondiale. E pensare a dei brasiliani fa in effetti abbastanza strano. Ovviamente però tutti aspettavano la finale. La finale che ogni tanto si scrive che è stata giocata a Parigi, ma non è vero, la finale è stata giocata non allo stadio a Parigi, che esisteva, c'era uno stadio a Parigi, ma allo stadio di Colombe, che è un comune nell'Interland parigino, però non ufficialmente a Parigi, uno stadio che esiste ancora anche se è abbastanza in disarmo. Ad ogni modo la partita si prospettava essere molto interessante. Da una parte c'erano gli italiani, che persino i francesi dopo la partita col Brasile avevano dovuto ammettere che giocavano bene. Diciamolo chiaramente, in queste partite si vede come la nazionale del 38 fosse oggettivamente più forte rispetto a quella del 34. Lo si può dire abbastanza chiaramente. Dall'altra parte c'era l'Ungheria, che fino a quel momento non aveva mai deluso e aveva dominato tre partite su tre. Era un'Ungheria molto tecnica, giocava in maniera molto simile a Brasile, passaggi corti, veloci, che era guidata principalmente da due giocatori. Gheorghi Sarosi, che era una seconda punta, molto tecnica, molto abile, molto veloce nel suo gioco, che dopo la seconda guerra mondiale, scacciato dal regime comunista che si era instaurato in Ungheria, verrà a giocare in Italia. All'epoca guidava una squadra, il Ferenvaros, che era una tra le migliori squadre europee, che appena un anno prima aveva battuto la Lazio di Piola per la Coppa Mitropa. A centrocampo invece c'era un giocatore che si chiamava Zenghelen, che anche lui bravissimo, anche lui dai piedi molto buoni, anche lui dopo la seconda guerra mondiale dovette fuggire in Italia e chiudere qui la sua carriera. Due storie simili, due storie di giocatori che guidavano una nazionale che voleva strappare a tutti i costi all'Italia la sua seconda Coppa Rimè. Quest'immagine che vedete a fianco mostra i due capitani all'inizio della partita. È un'immagine famosa anche per un'altra curiosità, lo vedete l'arbitro? Si chiamava Capdeville ed era francese, ed è l'unico caso nella storia in cui un arbitro della nazione ospitante arbitrerà la finale. Non è mai più successo, è una curiosità, nel 1938 non è mai più successa. Lo stadio, come volete che fosse, era tutto schierato per l'Ungheria. Ancora una volta, quando le squadre scesero in campo, a parte un piccolo gruppo di tifosi italiani, tutto il resto dello stadio tiferà apertamente per l'Ungheria. Ormai gli italiani ci hanno fatto il callo. Passano sei minuti ed Italia è in vantaggio, con Gino, con la Ussi. Ma l'Ungheria non ci sta. Due minuti dopo, uno a uno. L'Italia però gioca meglio. L'Ungheria è contratta ed è un po' il contrario di quello che era successo quattro anni prima alla finale del 34. Questa volta la squadra che gioca meglio riesce anche a fare gol. A riportare l'Italia in vantaggio è Piola, che fa due a uno, e poco dopo, con la Ussi ancora lui, fa tre a uno. E con quel risultato si va a riposo. Il secondo tempo è ancora dominato dall'Italia. Giochiamo meglio, siamo più veloci, abbiamo molte opzioni in attacco. E quando Sarosi, a 20 minuti dalla fine, chiedo scusa, riporta i suoi sotto tre a due, ancora una volta Piola, che farà una doppietta come con la Ussi, ci porta avanti quattro a due. A vedere così sembra che la partita sia stata in bilico. A vederla non è veramente mai successa. Due squadre decisamente diverse. Quattro a due. Alla fine un quattro a due che regala all'Italia di Vittorio Pozzo il suo secondo mondiale. Un secondo mondiale che vuole dire tantissimo. Vuole intanto dire il riconoscimento internazionale, perché finalmente l'Italia aveva dimostrato che quello del 34 non era stato solo un mondiale rubato. In effetti qualcosina avevamo rubato, ma era comunque stato il mondiale di una grande nazionale. Una grande nazionale che aveva anche dimostrato di saper giocare molto bene. Tanto che quegli stessi spalti che all'inizio della partita avevano fischiato nell'Italia, alla fine l'applaudiranno a lungo e con convinzione. Applaudiranno Piola, applaudiranno Meazza, che poveretto praticamente chiuse qua la sua carriera, l'anno dopo sarà colpito da un problema vascolare al piede che lo terrà fermo per un anno, tornerà ma non sarà più lo stesso. Chiuderà la storia di Vittorio Pozzo, che alla fine della seconda guerra mondiale sarà estromesso dalla guida tecnica della nazionale perché è considerato troppo vicino al fascismo. Chiuderà la storia di Leonidas, che ovviamente non giocherà mai più un mondiale, ma chiuderà anche la storia di una parte del calcio. Perché ci si immaginava all'epoca, i giornali lo dicevano, che quattro anni dopo ci si sarebbe ritrovati per giocare un nuovo mondiale. Non si sapeva dove, perché venivano annunciati due anni prima e ancora bisognava decidere, ma quattro anni dopo si sarebbe giocato un nuovo mondiale. L'Italia avrebbe provato a vincere per la terza volta per tenere la Coppa Rimè, il Brasile avrebbe cercato di riportarlo in Sud America, l'Argentina sarebbe tornata, chissà la Francia, forse l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Germania che stava crescendo, e invece no, perché la Germania aveva altri piani. Perché come vi dicevo all'inizio, qualche mese dopo ci sarebbe stata la conferenza di Monaco, i Sudeti, poi l'annessione della Cecoslovacchia, la guerra con la Polonia e la seconda guerra mondiale era iniziata. La Coppa Rimè, che sarà tenuta dall'Italia per 12 anni senza più metterla in paglio, rimarrà nelle mani italiane per 16 anni, il periodo più lungo a cui la Coppa rimarrà nelle stesse mani, rimarrà appunto in Italia per così tanto tempo. Rischierà di essere rubata durante la guerra, verrà difesa e salvata dalla Federcalcio italiana e sarà rimessa in paglio per la prima volta nel 1950. E si andrà in effetti a giocare in Sud America ma in Brasile. Ma come vedremo le squadre saranno completamente cambiate e saranno completamente cambiati i rapporti di forza in Europa, anche perché alcune delle squadre che avevano giocato questo mondiale al prossimo non esisteranno invece proprio più o sarà loro impedito di giocare, come ad esempio succederà con la Germania. Ad ogni modo, io mi fermo qua, spero di avervi raccontato un buon mix di storia e aneddoti, che secondo me è una delle cose più belle legate a questi mondiali. Ringrazio ancora Matteo, ci vediamo fra due settimane per andare avanti di 12 anni e parlare del mondiale del 1950, ma in mezzo, vi dico già che ci sarà una peristoria molto particolare per parlare di un mondiale che non si è mai giocato, cioè quello del 1942. Quindi, come sempre, se volete potete riascoltare la pidola qui o sul nostro podcast, che trovate in descrizione, se volete aiutarmi per delle pidole, propormele, scrivermele, ci sono in descrizione anche i nostri social, Facebook, Instagram, Telegram, la mail. E per il resto, come sempre, vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista, ormai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qui a fianco c'è l'elenco delle pidole, uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia. A presto! Ciao ciao!